Davies schiva, spostata dalla ricezione, Visic attusa per l'attacco di Grozerra. Una possibilità più forte lo fa verso Mara che tiene bene. Visic innesca subito dietro l'attacco di Grozerra. Che cosa tira Grozerra? Ancora dall'altra parte per questo pallone, Appoggiago. Davies schiva, un po' di difficoltà. Vizic allora alza un pallone. Grande attacco di Grozerra, esce questa palla alta a prendere l'angolo lungo, passando anche fuoco il muro. Va a incrociare verso Federici che però tiene l'attacco di Grozerrara. Sulle mani del muro, mani e' out, 22 di gioco. Mentre il mancino di Ole Brozini schiva a cercare la dioschiva, smorzato dal nastro. Cambia tutto, Vizic tra l'altra parte per Grozerrara. che il Nohuk attacca a una parallela interna. Quindi si riceve questa battuta di Seminuk dall'altra parte. Si gira... Un bellissimo corpo di attacco di Grozerrarara. Guardate, vediamo se c'è dei replay con il corpo completamente in diagonale. I can't stop, I can't stop, I can't stop, I can't stop, you can drop it up, won't stop, won't stop.